salve a tutti in questo video parliamo di sistemi non lineari ovvero sistemi di grado superiore al primo intanto che cos'è il grado di un sistema il grado di un sistema di equazioni è il prodotto dei gradi delle equazioni che lo compongono ad esempio qui è riportato un sistema di due equazioni la prima è di secondo grado la seconda è di primo grado dobbiamo eseguire il prodotto tra i gradi pertanto questo è un sistema di secondo grado in questo esempio abbiamo la stessa equazione la prima di secondo grado e la seconda è anch'essa di secondo grado perché abbiamo il termine 2xy che è un termine di secondo grado dobbiamo sommare i gradi delle singole lettere questo sistema pertanto è di quarto grado quindi non esistono solo sistemi di secondo grado ma in generale quando abbiamo sistemi di grado superiore al primo si dicono sistemi non lineari ci occuperemo nel dettaglio di sistemi di secondo grado iniziando dai sistemi di due equazioni in due incognite intanto diciamo che un sistema può essere come già abbiamo visto per i sistemi lineari indeterminato impossibile determinato per risolvere questi sistemi si applicano solitamente il principio di sostituzione o il principio di riduzione ma vedremo con degli esempi questo è un sistema di secondo grado abbiamo la prima equazione di primo grado la seconda è di secondo grado se volessimo applicare il metodo di sostituzione potremmo da qui ricavare y ottenendo 2x meno 1 e sostituire nella seconda al posto di y 2x meno 1 facendo così otteniamo perciò una equazione di secondo grado la seconda che possiamo risolvere perché contiene un'unica incognita scriviamo x alla seconda meno 2x uguale 0 dal momento che questo si semplifica con questo raccogliendo la x otteniamo questo prodotto che ha per soluzioni x uguale a 0 e x uguale a 2 pertanto abbiamo due soluzioni per la x cosa che nei sistemi lineari non capitava nei sistemi lineari quando il sistema è determinato abbiamo una coppia risolutiva perciò quando x uguale a 0 la y vale 2x meno 1 quindi 2 per 0 meno 1 quando x è uguale a 2 la y vale 2 per 2 4 meno 1 3 il sistema ha come soluzione le coppie ordinate 0 meno 1 oppure 2 3 come per i sistemi lineari possiamo fare la verifica si possono andare a sostituire i valori di x e y all'interno delle due equazioni e verificare che tutto sia corretto lo si fa per la prima coppia e poi per la seconda coppia possiamo interpretare graficamente i sistemi vediamo qui un esempio poi vedremo anche quello che succede con l'esercizio che abbiamo appena fatto qui abbiamo nuovamente un sistema di secondo grado se noi esplicitiamo la y in entrambe le equazioni otteniamo dalla prima y uguale un mezzo x alla seconda meno x più 3 e dalla seconda y uguale x più 1 cosa abbiamo ottenuto rispettivamente l'equazione di una parabola e l'equazione di una retta le soluzioni del sistema se esistono rappresentano perciò i punti di intersezione fra la parabola e la retta possiamo usare il metodo del confronto dal momento che abbiamo y uguale y uguale e scrivere un mezzo x alla seconda meno x più 3 uguale x più 1 da qui otteniamo un mezzo x alla seconda meno 2x più 2 uguale 0 e moltiplicando per 2 otteniamo x alla seconda meno 4x più 4 uguale 0 senza scomodare la formula risolutiva mi accorgo che questo è il quadrato di x meno 2 perciò abbiamo una soluzione doppia x uguale 2 se x uguale a 2 quanto vale y sostituiamo nell'equazione più facile y uguale 2 più 1 che fa 3 perciò la coppia che rappresenta un punto in questo caso il punto in cui si intersecano retta e parabola è il punto di coordinate 2 3 ed ecco qui il grafico questo è il punto di coordinate 2 3 eccolo qui è il punto in cui la retta interseca la parabola vedremo c'è un punto di contatto la retta si dice tangente alla parabola tornando al primo esempio che abbiamo visto qui avevamo due soluzioni e quindi in questo specifico caso abbiamo due punti di intersezione tra la retta e la parabola perché anche in questo caso se esplicitassimo la y dalla seconda equazione otterremo l'equazione di una parabola disegnando la retta e la parabola notiamo che qui abbiamo un punto di intersezione che ha proprio coordinate 0 meno 1 qui abbiamo il secondo punto di intersezione che ha coordinate 2 3 quindi vediamo che in questo caso si dice la retta è secante perciò ricapitolando nel caso di una parabola e una retta può verificarsi che la retta è secante quando il sistema è determinato e ha due soluzioni come nell'ultimo caso che abbiamo visto la retta può essere parallela all'asse quando il sistema è determinato e ha una soluzione singola la retta può essere tangente quando il sistema è determinato e ha una soluzione doppia come abbiamo visto nel primo grafico e infine se il sistema è impossibile la retta è esterna alla parabola faccio notare una cosa importante non sempre le equazioni di secondo grado sono interpretabili con parabole perché in generale si parla di coniche pertanto potremmo avere ad esempio una circonferenza una parabola come abbiamo visto o un iperbole come possiamo interpretare questo sistema qui sono già scritte le equazioni con la y esplicitata questa è una parabola e anche questa è una parabola sono due equazioni di secondo grado questo sistema è di quarto grado risolvendo questo sistema si può sostituire la prima nella seconda si ottiene x alla seconda meno 6 x più 7 uguale meno x alla seconda più 8 x meno 13 e portando ovviamente tutto a primo membro si ottiene 2 x alla seconda meno 14 x più 20 uguale 0 dividendo per 2 abbiamo x alla seconda meno 7 x più 10 uguale 0 da cui otteniamo le due soluzioni per x qui abbiamo la radice di 9 che fa 3 perciò abbiamo 7 meno 3 che fa 4 diviso 2 fa 2 7 più 3 10 diviso 2 fa 5 abbiamo due punti in cui in un caso la scissa è 2 nell'altro caso la scissa è 5 quanto vale l'ordinata possiamo sostituire x in una delle due equazioni e otteniamo questi due punti cosa sono questi due punti sono i punti di intersezione questa volta non di una retta e una parabola ma di due parabole se andiamo a vedere il grafico ecco qui le due parabole punti di intersezione 1 e 2 questo ha coordinate 2 meno 1 e questo ha coordinate 5 2 ragazzi se non l'avete fatto potete iscrivervi al canale e attivare le notifiche spero che il video vi sia stato utile se così non dimenticate di lasciare un bel like e di condividere l'esistenza del canale io vi ringrazio vi saluto e alla prossima ciao